ciao a tutti sono Mauro ho deciso di fare un tutorial base diciamo molto molto base per creare un circuito per assetto corsa visto che ho visto che tutte le guide che ci sono sono in inglese non ce ne sono in italiano ho deciso di farne uno in italiano lo farò con blender la mia deve essere la versione 2.8 comunque semmai per blender cercate qualche tutorial che ce ne sono un'infinità anche in italiano così imparate almeno un po le basi per usare blender dopodiché iniziamo con mi sono creato una cartella tutorial con dentro la cartella del tracciato e dentro quello che serve a noi teoricamente allora la AI è solo per l'intelligenza artificiale dove si va a creare una una linea che le auto dell'intelligenza artificiale devono seguire ma quello non è non è obbligatorio che serve è crearvi una cartella texture dove mettere dentro il texture che andrete ad usare potete anche aggiungerle man mano che fate il circuito diciamo quelle che vi servono le aggiungete e non ho messo qualcuno tanto per fare tutorial la cartella ui dove c'è dentro la preview i track json in poca parola dove ci sono i dati che vi che compariranno quando cercate il tracciato diciamo e altro importante la cartella data dove c'è a noi serve anche solo sul face e basta qua c'è la mappa in poche parole sarebbe dove il centro si può dire della della mappa ma per la telecamera più che altro quando vedete il tracciato penso però non sono sicuro allora se non se volete copiare quei file qua basta sennò che andate su la cartella principale dove è installato assetto corsa nel content in tracks e prendete uno un circuito qualsiasi anche di quali originali diciamo come dove c'era il drift ecco percorso di drift che quello originale di assetto corsa e vedete che qua avete avete l'ui dove qua ci saranno tutte le sue cose a posto vedete qua basta che dovete cambiare il nome del tracciato il numero dei pit che deve essere sempre uguale a quello che avete effettivamente nel tracciato se no non ve lo da non ve lo da valido il data dove qua ci sono tutte quelle cose qua ma noi non servono serve solo il surface vedete che forse il mapini no questo è diverso però non serve una cosa secondo me giusto da fare sarebbe quello di installare il content manager che con quello risolve molti molti problemi perché a volte vi mette a posto anche la preview o qualcosa qualche altra cosa che non trova a noi che serve il surface perché nel surface vedete ci sono le proprietà diciamo della mesh fisica del circuito in poche parole vedete qua va bene essendo quello solo di drift c'è il kerb e il tarmac e basta quindi cosa facciamo copiamo queste tre cartelle questa non serve vedete che qua dentro la linea quindi questo non serve neanche possiamo copiare solo il data se volete siccome qua il surface è proprio povero c'è solo il tarmac e il kerb che sarebbe il cordolo ma manca quello che riguarda l'erba e tutte quelle cose lì allora potete andare anche in un altro tracciato se guardiamo un originale lo facciamo vallelunga per esempio vedete qua che è un circuito qualsiasi data e qua vedremo che il surface è molto più ampio diciamo qua c'è concrete carpet il pit il curve l'out kerb questo sarà il grass si è l'erba in poche parole questo qua vedete che ha i valori diversi quindi l'importante comunque è che ci sia uno dei palloni una cosa che a me interessava era però prendere quello che possa essere i pit i pit o qua vedete pit ok quindi pit c'è kerb c'è curve concrete questo è molto completo quello di laguna secca potete prendere anche quello di 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 un circuito una moda come per esempio guardiamo qua non lo so gil villeneuve apriamo data sul face e vedete che qua c'è care pit lane grass ok questo si può si può copiare perché c'è anche sand che sarebbe la sabbia vabbè off track dopo questi questi li nominate voi come volete quando create la mesh e riportando qua il nome esatto ve lo da come mesh fisica quindi facciamo così facciamo allora che io qua vado a elimin si eliminiamo il data eliminiamo anche questo eliminiamo anche questo lascio la texture dopo di che vado a prendere guardiamo anche la i di questo si può andare bene questo e questo me li copio qua in tutorial adesso io qua vado a cancellare tutto e lascio solo il surface sul face nel ai vabbè posso questi qua li li cancello perché è quello che riguarda la mappa in poche parole ok qua andrò a mettere il nome tutorial ok in descrizione mettiamo ancora tutto tutto tutorial tutto originale tutorial anche qui Italia mettiamo city mettiamo fan fantasy la lunghezza non ci interessa quindi la togliamo altezza non ci interessa la togliamo ecco qua il numero dei pit facciamo 1 facciamo file salva e così lui è salvato così ok per modificare anche questo qua potreste aprirlo con con un 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 gimp anche anzi quasi quasi facciamolo addirittura così apricon così almeno vi faccio vedere anche per modificare vedete noi andiamo aprirlo qui io faccio così come mai problema come mai c'è problema proviamo qua mantieni ok ok crea un nuovo livello base così adesso possiamo decidere cosa fare se tenere questo qua o no visto che c'è noi vogliamo uno diverso possiamo mettere qualsiasi cosa per esempio qua 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 si può fare una cosa del genere no non che Sto facendo un pò, allora, creiamo un livello, ok, facciamo così, che facciamo prima, se no possiamo inserire addirittura un'immagine, vediamo se qua c'è lo scorso, no, adesso va su materiale per locandine, vedete, prendo questo, lo porto qui, ok, se lo sposto, lo mettiamo sopra questo, scaliamo, così dai, più o meno tanto per fare, quindi questo possiamo anche eliminarlo, ok, adesso questi due io li fondo, insieme, fondi, e dopo qua, file, sovrascrivo, adesso noi nella nostra cartella, vedete, abbiamo il nostro file, così, come prima si vedrà, questo, qua, l'abbiamo già corretto, e con le cartelle noi siamo a posto, a posto, allora, adesso apriamo Blender, che avevo già aperto, questo, qua, questo è Blender, come ho detto prima, cercate di fare almeno, guardiamo, guardiamo così, dovrebbe essere attiva, ah, qua, si attiva, oh, così almeno qua vedete i tasti che vado a usare, allora, tasto 5, tasto 5, tasto 5, per andare in ortografico, e 7, siamo in top, dopo Shift A, aggiungiamo una curva, io uso Path, perché è quello che mi dà meno problemi, ecco, ok, così, vedete, qua, vi dice, un quadratino, sono 10 cm, ci allontaniamo, un quadrato, un metro, ci allontaniamo, 10 metri, ok, adesso noi qua abbiamo la nostra, la nostra curva, col tasto Tab, andiamo in Edit Mode, prendiamo questo vertice, e facciamo estrusione, si fa estrusione, vedete che va, estrusione, sull'asse X, e andiamo almeno qua, che saranno una ventina di metri, più o meno, ok, adesso mi allontano un po', così almeno, allora, facciamo, e, andiamo qua, che saranno X, sempre, così mi blocco sull'asse X, vedete che non va sull'asse X, e facciamo, fino a qua, che dovrebbe essere circa un 200 metri, vedete che un quadrato è 100 metri, ok, facciamo ancora estrudi, vedete che se io vengo giù, vedete, la riga nera sarebbe la curva effettiva, qua, allora, estrudi X, quindi 50, estrudo altri 50, qua, ok, estrudo Y, per vincolarmi sull'asse Y, e vado qua, quindi sono 100, dopo, estrudo Y, 50, estrudo X, per fare, dopo, volete fare come volete voi, eh, estrudo X, qua, così, estrudo X, 50, estrudo sulla Y, 50, estrudo, 50, estrudo sempre sulla Y, vado qua, in modo da fare, dopo l'altra estrusione, no, Y, scusate, sempre di 50, e dopo estrudo sulla X, 50, così abbiamo creato le curve più o meno uguali, dopo, per chiudere il percorso, cosa dovete fare? prendete l'ultimo vertice selezionato, selezionate, tenendo schiacciato Shift, il primo vertice, e col tasto F, vedete, avete fatto il filo e lui ha unito, ha unito la curva, allora, adesso, un consiglio che vi do è andare qua in parte a destra, sulle, le proprietà, diciamo, della curva, e qua, dove c'è Twist, Method, Minimum, mettere Z, Up, in modo che il piano che voi andrete a mettere dopo su questa curva, rimanga piano, perché se voi non mettete quello, allora, nel fare la curva, in poche parole, si deforma e ha un po' di tilt, gli da un po' di tilt in automatico, e quasi sempre risulta all'esterno, cioè, curva a destra, il tilt ce l'ha all'esterno, allora, tasto Tab, ritorniamo in Object Mode, con il tasto Tab, facciamo Shift A, Mesh, aggiungiamo, dove è? Piano, ok, e qua abbiamo il nostro piano, il nostro piano, andiamo qua su Item, e facciamo 2 metri per X, vabbè, ci può andare bene, però noi vogliamo che sia, non so, 14 metri, allora facciamo 14, e la larghezza della nostra tracciata è 14, su molti video che ho visto fare io, testurizzano già questo piano creato, a me non piace come viene, dopo forse per le texture che ho, in poche parole, si vede molto, molto, molto la ripetizione, si vede lo stesso, però facendolo dopo, quando è tutto fatto, si vede meno, perché si può, dove è stata stirata, si può cercare di, come si dice, di migliorarla, allora, adesso noi qua, allora, se voi dovreste, dobbiamo dargli il modificatore Array, così, Array, vedete che si è aggiunto un altro pezzo, vedete, se facciamo così, vedete che sono due, però è sempre solo uno ancora, perché non è stato modificato, dopo, un altro modificatore Curve, dove qua su Object, andremo a dargli, come oggetto, la curva, ok, e qua, lui si ancora alla curva, allora, potete o andare avanti manualmente, così finché non si chiude, o se no, io per fare più la svelta, faccio così, di solito, allora, qua dove c'è Fixed Count, faccio Fit Curve, qua dove c'è Curve, Curve, gli do sempre il Nurpass, vedete che ha fatto, e qua, gli do il Merge, in modo che non si generino, come si dice, doppi vertici, che dopo è un casino lavorarci, allora, qua, se noi andiamo in Y-Frame, qua, vediamo che lui ha creato, però, quello originale è ancora questo, allora, se voi volete lasciarlo così, cioè, che sia piana, potete lasciarlo benissimo, così, e andate, applicate, partendo dall'altro, dall'alto, applichiamo, applichiamo, ok, però adesso qua, per alzarlo, se vogliamo fargli una salitina, una discesa, quello che è, se noi andiamo sulla curva, andiamo in Agen Mode, e modifichiamo la curva, col tasto G, si modifica la curva, ma non è tracciato, allora, noi, adesso, torniamo indietro, facciamo CTRL Z, 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 e andiamo a rimettere i modificatori, adesso, noi, selezionando la curva, entrando in Edit Mode con la curva, in poca parola, possiamo, con G, vedete, modificare a nostro piacimento il tracciato, perché il tracciato è ancora attaccato alla curva, ok, e lo stesso con le altezze, esempio, se noi vogliamo alzare questa curva di TOT, non facciamo altro che fare così, sulla curva, e si alza anche il circuito, ok, facciamo così, qua, andiamo un pochino giù, perfetto, qua, andiamo un pochino giù anche questo, dopo, se vogliamo, fare, facciamo così, col punto, va a focalizzare sulla parte selezionata, vedete che qua adesso lei è piana, diciamo, ok, mettiamo, è piana, si può fare in modo che questa superficie, diciamo, come una curva, sia più inclinata verso l'interno, con qua, tilt, col tilt, vedete, che lei cambia inclinazione, vedete, così, se esageriamo, vedete, una mega parabolica, però, secondo me è giusto dargli un attimino di inclinazione verso, verso l'interno, è più bella da vedersi, risulta quasi meno, meno cieca, diciamo, la curva quando si arriva, ecco, noi adesso qua abbiamo fatto il tilt e l'abbiamo fatto appena di quel pezzo che va da qua a là, quindi noi dovremmo selezionare anche questo, dargli leggermente un po' di tilt anche a questo qua, in modo che sembri più uniforme, cioè inizia a piegarsi piano, e anche qua, vedete che, se non andiamo a vedere anche qua, qua, lei curva verso l'interno, quando arriva qua, è piana proprio, allora selezioniamo anche questo, diamo un pochino di tilt anche qua, e sembra tutto molto meglio, dopo va bene, fate come volete, per ritornare in top, col tasto 7 del tasto numerico, ritorniamo in top, allora, qua noi abbiamo fatto, allora, ci va bene così, ritorniamo in edit mode, stavolta selezioniamo il tracciato, applichiamo i nostri modificatori, adesso lui è così, non si può cambiare, cioè si può cambiare, ma non si riesce a fare una cosa fatta bene, se noi andiamo in edit mode, adesso, vediamo che, ora sono tutti divisi, sono tutti pannelli divisi, però sono attaccati l'uno con l'altro, se noi infatti scriviamo G, vedete che si sposta tutto, mentre per questi, è diverso, perché sono gli ultimi, e ve li ha fatti vicini, così, vedete che, se noi facciamo così, ci accorgiamo che, questo qua sotto, effettivamente, non è attaccato a questo sopra, quindi cosa possiamo fare? Allora, quindi tutto io direi che questo, che è un altro che non è attaccato a niente, questo, e questo, volendo, con la X, cancelliamo i vertici, avete visto qua che adesso siamo giusti, perché diciamo, qua finisce da un lato, e qua, inizia da un altro, ok, quindi adesso per unirli, ritorniamo al top, allora, selezioniamo 2, tasto M, at center, così, facciamo il merge al centro, vedete, adesso questo qua, è un unico, vertice fuso assieme, e lo stesso facciamo per questi due, M, al centro, ok, adesso noi abbiamo il nostro circuito, allora, adesso questa è una forma molto semplice, quindi, forse si riesce anche a fare una cosa del genere, per cercare di coprire qua, si fa, alt, e si schiaccia, il mouse, col tasto sinistro, torniamo sempre in top, andiamo a vedere, si può fare la E di estrudi, lo lasciate lì e fate scala, ok, adesso io ho fatto una cosa così veloce, ma non sarebbe da fare così, però va bene, dopo alla fine quello che resta, fate la F di film, e qua è fatto, e lo stesso per questo qua fuori, sempre con alte, vedete che va a prendere tutto l'esterno, si fa estrudi, si lascia lì, si scala, e si scala verso l'esterno, questo è già più facile, perché è una forma comunque rettangolare, o rotonda, quando ci sono tutte le varie curve, è già più difficile, infatti io tendo a fare estrusioni, pezzo per pezzo, dopo le collego, comunque qua, dove adesso ci siamo, qua andiamo su material, ok, non abbiamo neanche ancora le nostre, le nostre texture diciamo, quindi cosa facciamo, allora, prima di tutto io vi consiglio di fare una bella cosa, andate qua sulla selezione facce, qua in alto a sinistra, o se no col, il numero 3 della tastiera, però non del tastierino numerico, con il numero 3, vedete che lui si è spostato sulla selezione facce, fate come prima con Alt, e selezionate tutto questo giro, ok, schiacciate la P, che separa, e Selection, così avete separato la selezione, ora fate lo stesso anche con questo qua, Alt, e tutto questo qua, P, Selection, e così avete separato quello che è il circuito, dall'erba diciamo, anche questo qua in mezzo, sempre P, Selection, ok, un'altra cosa, che sarebbe da fare, magari, è, vedere dove si vuole fare, se si vuole farlo qua, all'esterno, o all'interno, creare, un, come si può dire, uno spazio dove dopo verrà messo, il cordolo, anche se il cordolo sarà appoggiato sopra, quindi, però, sapete, un piccolo spazio, intorno, si può fare, o facendo, CTRLR, che vedete che crea un taglio, crea i due tagli, con uno, dopo S, ok, uno lo mettiamo di qua, così, dopo, in sezione spigoli, sempre con alt, loop, GG, lo spostiamo di qui, non GG, GG, lo spostiamo qua, così, noi abbiamo, se andiamo con le facce, vedete, abbiamo creato, un'altra striscia, dove potremo fare marciapiede, possiamo fare muretto, possiamo fare quello che vogliamo, ecco, se volete, potete anche, separare, queste qua, cioè, allora, sempre selezione facce, con alte, ci spostiamo a destra, di quella selezionata, andiamo sotto, facciamo, facciamo Shift, dopo Shift, Alt, e sempre a destra, e selezion, no, ok, selezioniamo anche l'altro, facciamo P, Separate, Selection, perché questo, non me l'ha presa, ritorniamo un attimo in Edit Mode, vedete che questo adesso, ci danno due cose, differenti, no, clicchiamo questa, più Shift, clicchiamo questa, facciamo, Alt, J, no, C, T, R, L, J, e ce la unisce, come un'unica cosa, ok, altra cosa da fare, Plane, questo è il Plane, che sarebbe la nostra strada, lo rinominiamo, andiamo qua, si può fare anche direttamente qua, o se no si va qua su questo quadrato, Plane, in maiuscolo si scrive, perché abbia una proprietà fisica, deve essere scritto in maiuscolo, e scriviamo uno, ROAD, che, in poca parola, ci sono dei, dei nomi già preimpostati nel software di Assetto Corsa, dove riconosce il nome del materiale, anche se non si mette dentro niente, nel data, nel surface, questo viene comunque riconosciuto, come proprietà fisica, allora, proprietà fisica deve essere sempre, con davanti un numero, e la scritta in maiuscolo, perché, posso avere una proprietà fisica, se voi, non scrivete il numero, lo scrivete in minuscolo, lui non avrà, una proprietà fisica, cioè, non avrà, non avrà una collisione, diciamo, quindi, la macchina precipiterebbe, o un muro, non farebbe da muro, ma verrebbe oltrepassato, e diciamo che minuscolo, così, ha solo proprietà visive, e basta, l'altro plane, abbiamo visto che è, sempre l'erba, quindi noi, questo plane qua, che sarebbe la nostra erba, scriviamo, uno, GRASS, ok, questa, è sempre erba, quindi, facciamo, due, GRASS, eh, faccio uno, due, così, perché così restano, separati, anche questo, tre, GRASS, dopo c'è questo, che sono i cordoli, possiamo dargli, eh, curve, ma io dico, delle stupidate, durante, questo tutorial, ma, va bene, prendetelo per quello che è, almeno, potete avere un info in natura, anche voi, per divertirvi, allora, adesso, per andare a testurizzare, cosa facciamo, prendiamo, tipo, l'erba esterna, andiamo in, edit mode, selezione faccia, ne selezioniamo una, anzi, una cosa che vi, consiglio, per quanto riguarda questo, è di selezionare tutto con CTRL, A, ho detto una stronzata, A e basta, con A, e due volte A disattivate, comunque selezionate tutto con A, qua, apriamo, un'altra scheda, dove, al posto, della 3D, viewport, andiamo in, UV Editor, ok, quindi, A, abbiamo fatto qua, abbiamo selezionato tutto quello, tutto il nostro prato, diciamo, dopo facciamo, la, U, di, unwrap, e io, qua, vado, su, 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 project for V, cioè, visto dall'alto, quindi, metto il mio progetto, vedete, qua, ha replicato il progetto, qua, perché è piano, va bene, anche fare così, ma, un po' tutti, diciamo, qua, cosa succede, che noi dobbiamo dargli la texture, perché adesso, non si vede, allora, qua, noi, facciamo A, anche qua, che selezioniamo tutto, andiamo qua, dove c'è questa specie di, di cerchio, facciamo, New, Material, per comodità, chiamiamo Grass, così, qui, sappiamo, però, possiamo scriverlo anche in minuscolo, ok, Grass, andiamo a prendere la nostra texture, qua, su Base Color, andiamo sul pallino, qua, senza Image Texture, qua, Open, e andiamo nella nostra, cartella, Tutorial, dove abbiamo le nostre texture, ok, e qua diamo, per esempio, non so, all'esterno, gli mettiamo questo, apriamo l'immagine, ok, vedete, allora, questa è la nostra texture, e questo è il nostro circuito, noi andiamo qui, a vedere come, vedete, è troppo, è troppo esagerata, così, allora, dal pannello, dove c'è, l'UV Image, facciamo S di Scale, e vedete, che anche qua, si può scalare, e continuiamo a scalare, finché, non otteniamo un risultato, che magari ci piace, tipo così, magari, no, ma, è ancora un po' troppo grosso, allora, ancora S, e, rimpiccioliamo sempre di più, vedete, così, adesso, ha fatto, ha dato un effetto, un po', un po' valordo, no, sembra più una carta da parati, quindi, ritorniamo ad allargare un pochino, appena, appena, ma, sì, secondo me, così ci potrebbe, anche stare, no, sì, dai, non è, non è proprio così, malvagia, comunque, va bene, anche, questa texture qua, che, diciamo, non è tanto, per la ripetibilità, allora, ritorniamo nella vista top, adesso, usciamo, se volete qua, fate assign, ok, usciamo, dall'edit mode, prendiamo, l'altro pezzo di prato, ritorniamo, all'edit mode, a, tutto, oh, project for V, qua, più, materiale, qua, la seconda, quindi mettiamo due grass, così, sappiamo che, la seconda texture, di erba, sempre, image texture, apriamo, andiamo ancora, nelle nostre texture, e stavolta, facciamo, questa, anzi, questa, sì, open image, vedete, che adesso qua, solito discorso, a, s per scalare, e iniziamo a scalare, finché non vediamo, iniziamo a vari, così, ci aggrada, s, e scaliamo ancora, scaliamo ancora, ok, ok, lo lascerei così, ovviamente, io, non son bravo, quindi qua ancora, assign, qua, vogliamo, dargli, eh, la texture, che abbiamo già, facciamo, U, non andiamo in edit mode, scusate, facciamo A, che abbiamo selezionato questo, U, project for V, ok, qua, A, eh, qua, gli diamo, una, vedete che qua, sono rimaste quelle che vogliamo noi, vogliamo non solo la prima, tanto per, la scaliamo, ok, così, assign, ritorniamo in, in outge mode, prendiamo, magari, dove c'è il cordolo, ok, ritorniamo in edit mode, facciamo sempre A, adesso facciamo U, project for V, ok, gli diamo magari, eh, questa qua, ok, A, scaliamo, più o meno uguale, quindi, dobbiamo farla più fine, qua un pochino più fine, in modo che si differenzi, magari, segniamo, ritorniamo, in outge mode, prendiamo il circuito, edit mode, allora, io per il circuito faccio così, non faccio project for V, perché magari avete la striscia bianca da mettere, allora, sempre in selezione modalità pace, selezioniamo una faccia, dopo, facciamo, A, che selezioniamo tutto, facciamo la U, qua, facciamo, reset, e vedete che vi mette, una faccia, una sopra l'altra, dopo, rifacciamo U, e facciamo, follow, a T quote, qua diamo l'ok, e vedete che adesso lui, ha distribuito, eh, la nostra mesh, in tutti, i quadrati, allora, noi cosa facciamo qua, facciamo che qua, A, facciamo più, qua, diamo un ROAD, tanto per ricordarci, ok, al solito, image texture, andiamo nella nostra, cartella delle, texture, andiamo a prendere, magari, eh, questo asfalto qua, con la, con la riga, ok, o questo, non ho questo qua, dai che, allora, apriamo con l'immagine, vedete che qua, però, le righe sono per così, perché, effettivamente, è messo al contrario, allora, cosa si fa, da qua, da dove c'è lo shading, allora, si fa, R, 90, così, viene ruotato di, 90 gradi, dopo G, lo rimettiamo, in mezzo, allora, altra cosa, adesso andiamo a vedere, se noi guardiamo bene, vediamo che è un po', come si dice, stirata, un po', screcciata, l'asfalto, perché, in poche parole, cosa succede, per quello che ho detto, che, non lo faccio mai prima, ma lo faccio dopo, perché se, noi, quando avevamo il piano, lo testurizzavamo, dovevamo, prendere solo una porzione, della texture, perché non essendo quadrato, è ovvio, no, che, se no, viene strecciata per il lungo, allora, io faccio così, e dopo, sapendo, che, in poche parole, abbiamo detto, che è, 14, 12, 14 metri, la larghezza, per 2 metri, vuol dire che, se fosse quadrata, dovrebbe essere, 14 per 14, quindi, vuol dire che, all'interno, per il lungo, diciamo, all'interno, ci devono essere, 7 pannelli, allora, io qua, faccio, S, Y, e, pian pianino, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più o meno, vedete che, come è diventato, molto più credibile, ora l'asfalto, perché, perché ora, diciamo, non è più, così stirata, e dopo, vabbè, dopo qua, S, Y, e, pian pianino, andiamo a vedere, sempre di più, come può starci bene, secondo me, qua, non è male, e vedete che, anche se voi, vi allontanate, non vi accorgete, tanto, della ripetizione, perché avete usato, tutta, la, la texture, che, che avevamo, quindi, detto ciò, qua, ora, magari ci salutiamo, ah, mi raccomando, salvatene, date su fail, save as, io, guardiamo, ritrovo, texture, tac, tutorial, ok, e qua, salverò il mio file blend, mettendo, tutorial, ah, ah, così, e salvo, ok, per adesso è tutto, e, la prossima volta, vi dico come, renderlo funzionante, per, assetto corsa, ciao, ciao, e grazie di avermi seguito,